Hermal Meta papà dolcissimo, la dedica per il primo mese della figlia e di una tenerezza unica. Ecco come il cantautore ha festeggiato il primo mese della sua piccolina fortuna Marie. Rockstar di notte, papà di giorno. È questa la nuova vita di Hermal Meta, il cantautore italiano di origini albanesi che lo scorso 19 giugno, all'età di 43 anni, è diventato padre per la prima volta della piccola fortuna Marie, avuta insieme alla compagna Chiara Sturà, marketing manager per una società di consulenza sportiva. Quella che sta vivendo Hermal è una nuova vita stravolta dall'arrivo di una piccolina che ieri, 19 luglio, ha compiuto il suo primo mese di vita. E tra concerti e coccole, festival e vita da neopapà, Hermal sta vivendo un'estate indimenticabile che, nonostante il suo solito riservo, ha deciso di condividere con i suoi fan sulle sue pagine social pubblicando foto, video ma soprattutto emozioni. E proprio in occasione di un giorno importantissimo come quello del primo mesiversario della sua bimba, Hermal ha deciso di urlare la sua gioia al mondo intero. Lo ha fatto postando nelle sue storie Instagram una foto dolcissima che lo ritrae con in braccio la sua piccolina fortuna. I due, nello scatto, sono distesi a terra, su un prato, mentre dormono insieme tra coccole e abbracci. Una foto che scalda il cuore, soprattutto per la dedica che Hermal ha fatto alla sua bimba, un mese di te, mi hai stravolto la vita ridandole un senso tutto nuovo. Sei il mio per sempre. Parole che trasmettono tutta la gioia di un uomo che, da quando è papà, ha iniziato a vedere il mondo con nuovi occhi, quelli dell'amore per una bimba che è parte di sé e sarà, d'ora in poi, la sua più grande fonte di ispirazione nella musica ma, soprattutto, nella vita. E noi non possiamo che augurare a Hermal di godersi ogni attimo di questa nuova vita da papà.